Che peccato ragazzi, che peccato, siamo al 91esimo, altri 5 minuti di recupero, ma veramente un peccato perché comunque secondo me il Trapani ha giocato una partita tatticamente perfetta, di coraggio, di voglia, di cattiveria, giocando corto e secondo autogol consecutivo, questa è veramente sfiga. Se l'altra volta l'autogol iniziale di Coulibaly è stato mascherato dalla goleata, per cui alla fine sti cazzi, questo di oggi è pesante, pesantissimo, è arrivato pochi minuti fa l'autogol di Pagliarulo che ha il sapore veramente di beffa, ha il sapore veramente di beffa. C'era stato il vantaggio proprio allo scadere del primo tempo su un'azione in cui si sono distratti tutti, tutti, compreso quello che stava a fare riprese di Dazon, non colpani però che ha fatto un lancio filtrante, palla ferma, per il Cobra. Lo possiamo chiamare il Cobra, io non so come ho chiamato il Giova Trapani. Io presto credo che farò una canzone anche su Stefano, su Stefano Pettinari, perché secondo me se lo merita, 14 gol, gol sempre pesanti, sempre importanti. E qui appunto si è avventato come un Cobra di sinistro e ha beffato il portiere Brignoli proprio sotto le gambe, o come diciamo a Roma, sotto le cianche. E adesso siamo al 92esimo, io mi sono scritto qua qualche appunto, ma ripeto è stato un Empoli, non mi è piaciuto, cioè rispetto comunque all'Empoli di queste ultime gare, che comunque stava inannellando risultati importanti, tra l'altro da quando è arrivato Pasquale Mavino credo che non abbia mai perso, se non ricordo male poi chiaramente correggetemi, purtroppo ho una memoria che mano a mano la sto perdendo, ma oggi assolutamente non mi è piaciuto, è troppo lungo, reparti slegati, azioni che venivano sì, perché magari c'è un po' più di qualità tecnica rispetto al Trapani, ma il Trapani, ripeto, se giocando cortissimo praticamente ha arzato un muro e l'Empoli ci andava a sbatte tranquillamente, adesso ci sta anche provando, attenzione, ci sta anche provando, perché comunque un calcio d'angolo attaccante è riuscito a stoppare una palla al centro area, poi chiaramente è stato anticipato perché non ti puoi permettere di stoppare una palla, lì o giri al volo o altrimenti la palla è persa. Comunque poi c'era stato anche un altro diagonale di Dalmonte, insomma ci ha avuto delle opportunità anche per raddoppiare, spesso con delle folate in contropiede dove comunque è stato molto abile il Trapani, mi è piaciuto molto Auger e Tugurdo, chiaramente Pettinari che oltre a fare il gol fa un ottimo lavoro di squadra in appoggio, a sostegno, sta veramente facendo una grandissima stagione, adesso aspettiamo qualche minuto, ne mancano due, dopodiché andiamo a chiusura, intanto è finita Venezia, il Crotone fa un'altra vittoria importante, il Crotone sta tornando, poi chiaramente faremo un video anche su quello, oggi ho visto un po' di Cittadella e Bordenone perché chiaramente è iniziata mezz'ora prima e poi stavo vedendo Empoli Trapani e stavo vedendo Venezia Crotone, poi chiaramente però dopo vi cominciava il Cittadella, oggi veramente da pazzi, oggi da pazzi, mettiamo un attimo in pausa. E intanto stiamo facendo la conoscenza di Stancampiano, che è il terzo portiere perché oggi non c'era Carnesecchi, Castrati si è fatto male proprio adesso e per cui sta entrando Stancampiano, due minuti sono rimasti, speriamo non faccia cazzate, cioè vabbè sicuramente sarà un ottimo portiere, io non lo scoprerò, insomma speriamo non faccia cazzate. E ora finisce, comunque un punto importante perché ho tenuto a Empoli, però certo resta l'amaro in bocca.